a tu per tu ospita questa settimana Filippo De Gasperi consigliere provinciale del Movimento 5 Stelle grazie di essere con noi De Gasperi. Grazie a voi buongiorno. Allora parliamo subito di un argomento che è il cuore di una mozione e vale a dire la sloi. Sappiamo tutti la storia della sloi, fabbrica inquinata, fabbrica fatta chiudere a suo tempo in una notte d'estate, una notte che sembrava dovesse esplodere il mondo dall'allora sindaco di Trento Giorgio Tononi, fabbrica che ha inquinato il terreno, terreno che è fermo da decenni. E voi cosa proponete De Gasperi? Qual è il senso della vostra mozione? Intanto la nostra mozione aveva l'intenzione di riaprire un dibattito. Si parla spesso del Trentino come perla dal punto di vista della tutela ambientale e ci dimentichiamo che praticamente nel centro di Trento c'è un sito che è considerato, è classificato tra i dieci più... ...punto volevamo far riflettere su questo obiettivo. Ad oggi non si conoscono tecniche che permettano di bonificare efficacemente i terreni inquinati da piombo come sono quelli della Sloi. Piombo tetretile, tetrametile. Esatto, quello che serviva come antidetonante per il carburante degli aeroplani. E quindi ripensare la destinazione urbanistica di quella zona per evitare che la speculazione agisca come ha agito nella zona del Magnete, creando dei quartieri che poi provocano tutte le conseguenze dal punto di vista sociale, della sicurezza. E quindi lasciare, prevedere che quest'area rimanga, come dire... Ma come evitare? Sappiamo benissimo che nell'area della Sloi, Sloi significava società, lavorazioni organiche e inorganiche. Si lavorava appunto piombo, piombo tetretile. Ci sono state diverse morti che a quei tempi invece venivano passate come ubriachezza, venivano portati al manicomio. Poi, naturalmente, la storia fortunatamente ha fatto il suo corso e si è dimostrato veramente che il piombo depositandosi all'interno del nostro corpo causava morte, causava anche delle deviazioni psicologiche abbastanza pesanti. Ma cosa proponete di fare nello specifico? Proprio lasciare in perditura memoria questa zona? Ma la scienza suggerisce che l'unico strumento per bonificare quei terreni sia piantare dei pioppi in particolare e lasciare che la natura faccia il suo corso. Collegato al problema della Sloi c'è anche il problema della bonifica delle rogge che sono state inquinate dalle produzioni Sloi e lì l'ente pubblico vuole intervenire massicciamente con anche risorse importanti perché si parla di 30-35 milioni di euro e il pericolo per quanto riguarda la Sloi è che venga realizzato proprio lì il centro per il trattamento di questi fanghi e anche questo è un punto che preoccupa particolarmente perché primo c'è il rischio che poi questo centro trattamento diventi perenne e attiri sostanze tossiche nocive da altre zone. E poi perché ovviamente posizionare un impianto di quel genere su un terreno già inquinato rende praticamente impossibile verificare le conseguenze della presenza di questo impianto. E poi naturalmente sappiamo benissimo che è diventato anche un covo di disperati, di ammarginati. Sì però tengo a sottolineare che quello che sta sotto il terreno è molto peggio di quello che si vede sopra. Tutto è ok. La prossima settimana il bilancio due parole o meglio due concetti su un bilancio che il Presidente Rossi su una finanziaria che praticamente è il programma di legislatura. Il Presidente Rossi dice competitività alle aziende una manovra competitiva perché se non ci sono soldi, se non si fa economia, se non si fa sviluppo non si può fare neanche in stato sociale. Ovviamente noi abbiamo una visione un po' diversa da quella del Presidente Rossi. La finanziaria che ci ha presentato, come per sua stessa missione all'interno della relazione che la introduce, è sostanzialmente una finanziaria che si pone nel solco della tradizione. Quindi non vediamo quello shock, in particolare dal punto di vista economico della competitività di cui avrebbe bisogno il Trentino. Noi abbiamo fatto, quindi si tratta di proposte che si pongono nella falsa riga di strumenti già visti e che abbiamo già verificato non essere quelli sufficienti per modificare il trend dell'economia trentina. Quindi noi proponiamo interventi più incisivi, in particolare chiederemo, e non siamo gli unici perché sul nostro binario si sono posti anche associazioni di categoria, chiederemo per esempio che l'IRAP, su cui comunque c'è stato un intervento, venga azzerata. È nelle competenze della provincia, è nelle possibilità della provincia e questa operazione si potrebbe fare tranquillamente scambiando l'imposizione per tutti con la parte di contributi che ovviamente va solamente a pochi, le cifre si equivalgono. Quindi noi diciamo via l'IRAP per tutti e in cambio qualche imprenditore rinuncia ai contributi di cui è famosa la provincia. Sentiamo questa domanda dalla regia, poi pochi secondi per rispondere. Che cosa chiede lei alla politica trentina? Chiarissà e semplicità. E rispetto a quella nazionale andiamo meglio qui oppure no? Secondo me andiamo meglio. E rimanendo alla politica nazionale che futuro avremo? Renzi, Napolitano, cosa ci aspetta? Alternativa Renzi oggi non ne abbiamo però. Ecco, Alternativa Renzi oggi non ne abbiamo, a livello nazionale? Diciamo che perlomeno gli italiani avrebbero il diritto di esprimersi sulle eventuali alternative, un diritto che non ci è stato concesso dato che ormai da tre turni i presidenti del Consiglio vengono nominati senza passare per le urne. Quindi dal mio punto di vista le alternative ci sono, a cominciare dal Movimento 5 Stelle. Penso che appunto gli italiani avrebbero pieno diritto di esprimersi sulle ipotesi Renzi. Per quanto riguarda le richieste alla politica, io dico che la gira del Movimento 5 Stelle si pone proprio nel solco della chiarezza. Noi cerchiamo di portare avanti principi come quello della trasparenza, tutti i documenti di cui veniamo in possesso li mettiamo a disposizione dei cittadini attraverso la rete, quindi quello che facciamo è rendi contatto, è controllabile da tutti, quindi penso che almeno da questo punto di vista tutti i trentini potrebbero essere soddisfatti. Siamo al termine, ringraziamo Filippo De Gasperi, consigliere provinciale Movimento 5 Stelle, grazie De Gasperi. Grazie a voi. E soprattutto grazie a voi, ci rivediamo con un altro ospite, grazie ancora. Grazie a voi, ci rivediamo con un altro ospite, grazie a voi.